Con lo stanziamento di oltre 208 milioni di euro che le regioni dovranno spendere da qui al 2021, il fascicolo sanitario elettronico, una fondamentale innovazione digitale destinata a migliorare la vita degli assistiti e l'attività lavorativa degli operatori sanitari, potrà diventare operativo. A commentare positivamente il rilancio del servizio il consigliere di Fratelli d'Italia, Viziello, che fa riferimento all'arrivo, nella conferenza permanente Stato-Regioni, del decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze, sui criteri di utilizzo del fondo di finanziamento del fascicolo sanitario elettronico. Un'infrastruttura digitale non ugualmente sviluppata nelle varie regioni italiane, in Basilicata fa presente Viziello, in buona parte attuato, ma è utilizzato poco dai medici e pochissimo dai cittadini. Fase che potrebbe essere superata con i fondi messi a disposizione dal MEF pari a 2 milioni e 800 mila euro da spendere entro il 2021, occasione per serviziello da non perdere e da utilizzare al meglio.